Buonasera, per me è un grande piacere essere qui e parlare di un libro che ho amato molto, di uno scrittore che amo molto, Memoriale di Paolo Volponi. Un po' la sfida questa serata era quella di evitare il racconto di un romanzo, evitare il racconto di un libro. Il racconto di un libro è sempre molto rischioso, secondo me è un po' anche tradisce gli scrittori che hanno scritto il romanzo. Quindi quello che stasera cercherò un po' di attraversare con voi è una specie di strada segnata da un po' le luci di una costellazione che ci mostrano in maniera un po' anche come se fossero delle suggestioni, quello che può essere in qualche modo il contesto, la percezione di questo libro. Quindi non credo molto ai libri, al racconto di libri, perché poi si tradisce la lingua dello scrittore, si tradisce la sua trama, si tradisce quello che lui ha immaginato raccontando. Ed è giusto invece proprio il rapporto con la lettura. E quindi questi piccoli bagliori saranno un po', questo sto facendo una piccola captazio, questi piccoli bagliori serviranno un po' anche a capire perché questo è un libro che ancora oggi, 60 anni dopo, come la letteratura che resta, è ancora un libro modernissimo, è ancora un libro che ci dice moltissimo. Io ogni tanto leggerò un po' gli appunti che ho scritto, quindi perdonatemi se i miei occhi si rimpiccioliranno e la mia voce verrà rotta, ma sono un po' secchione, quindi non riesco a imparare a memoria nulla, quindi ogni tanto sfuggerà il mio sguardo sul foglio. E poi farò quelle che Oscar Wilde chiamava delle prove del cucchiaino, cioè leggerò dei pezzettini di memoriale. La prova del cucchiaino, chiamava così Oscar Wilde, e ahimè è anche una pratica avvalsa nell'editoria, cioè quando si arriva a un manoscritto si legge una pagina a caso per capire la sensazione, la percezione che arriva da quelle poche righe. Pericolosissima, potete immaginare come pratica, perché ovviamente facilmente si può far intendere un testo dalla prova del cucchiaino, però noi faremo una prova del cucchiaino guidata, quindi sarà un viaggio attraverso tante piccole prove del cucchiaino per capire che cos'è questo libro. Allora, io voglio fare una piccola introduzione, due righe proprio sul Paolo Volponi pre-memoriale. Non vi faccio la biografia di Paolo Volponi, ma vi dico da dove viene. Paolo Volponi ha una storia molto interessante, perché viene da una buona famiglia dell'Urbinate e cresce in una casa piena di libri e a scuola ha un temperamento particolare sin da quando è ragazzino e ama la letteratura. Poi lui ha proprio dei modelli, tre modelli in particolare. Emilio Salgari, Jack London e Renato Fucini. Tra l'altro Renato Fucini è uno scrittore oggi stradimenticato ed è autore di un libro che si chiama, se avete la fortuna di trovarlo perché su web si trova, perché è un libro fuori diritti, si trova il file pdf, Napoli a occhio nudo, che è un reportage della fine dell'Ottocento fatto in modo epistolare, a lettere. Quindi metteva insieme un grande classico di quel periodo che era il romanzo epistolare e poi metteva assieme poi invece il racconto di una città che veniva raccontata da tanti scrittori che avevano fatto il Grand Tour, soprattutto inglesi e tedeschi, però anche gli italiani, come il Pisano o Renato Fucini, facevano vedere questa città dall'occhio, da un occhio non straniero e soprattutto che non mostrava i lati un po' folcloristici che cercavano invece gli scrittori che arrivavano soprattutto dall'area anglosassona per fare il Grand Tour, escluso Georg Gissing, che è uno scrittore straordinario fuori proprio dal giro. Vi consiglio un suo libro che si chiama Verso lo Ionio, che racconta il suo viaggio nel Mezzogiorno. Lui amava questi scrittori e odiava il nozionismo. Diceva no, ma noi qui a scuola ci fanno leggere dei libri, ci fanno imparare a memoria le poesie. Io amo le poesie, io amo scrivere le poesie, però questo nozionismo mi spegne, mi fa impazzire, mi rende, mi naridisce. Quindi Volponi aveva questo approccio nei confronti dell'istruzione scolastica che è un po' selvatico, allo stesso tempo anche ribelle. Solo che poi lui questo approccio lo trasforma in un suo percorso personale. Quindi lui inizia a leggere crescendo, diventano poi i suoi modelli, soprattutto poi gli scrittori filosofi della nostra letteratura. Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Gian Battista Vico, Pietro Verri, Carlo Cattaneo, tutti i nomi, tutti scrittori filosofi, scrittori pensatori. e molti poeti, sia gli italiani, i poeti di quel periodo, i classici, i grandi classici, la triade, del periodo ungheretti così monomontale, e poi ovviamente anche poeti stranieri, per esempio Garcia Lorca. E Volponi inizia a scrivere poesie. Giovanissimo è un poeta, a 17 anni il suo primo libro che però poi pubblicherà molto dopo, Il Ramaro, per me è difficilissimo da dire, Il Ramaro, potete immaginare. volevo evitare questo momento, però è arrivato, e uscirà nel dopoguerra con una bella prefazione di Carlo Bon. Paolo Volponi viene arruolato nella Repubblica Sociale, questo è un fatto importante, ci servirà quando parleremo di Memoriale, ma lui tradisce diserta e si arruola invece una brigata partigiana, una brigata sfortunatissima, perché viene una delle poche brigate che proprio viene subito dissolta da un attacco dei nazi fascisti, e lui si nasconde nelle campagne, grazie anche agli uffici, buoni uffici del padre, che era comunque una persona molto rispettabile nel suo territorio. Questo rapporto, questo nascondersi nelle campagne sarà molto importante anche quando parleremo più avanti del rapporto fra campagna e industria, fra città e campagna in Memoriale. E poi Paolo Volponi torna, finisce la guerra, e il padre lo spinge a studiare giurisprudenza, e lui non solo studia giurisprudenza, ma ti fa anche l'esame per diventare procuratore legale. Tutto questo ci fa iniziare già a capire come un libro, il suo primo libro, si chiami Memoriale, viene un po' dalla sua formazione giuridica, che lui, insomma, era un giurista, come lui ogni tanto si è definito, anche un po' un giurista fallito, perché poi lui, anche se ha preso l'abilitazione ad essere un procuratore, poi in realtà lui ha fatto ben altro nella vita. Però la sua vita era la poesia, la sua vita era la poesia, lui voleva scrivere poesia, voleva raccontare questa contraddizione del posto da dove lui veniva e dove lui percepiva fortemente che stava cambiando il paese, da un lato c'era il boom economico, ma dall'altro c'era ancora un paese con una forte vocazione contadina, agricola. Diventa amico di Franco Fortini e Franco Fortini gli fa conoscere Adriano Olivetti, che sarà la figura fondamentale nella vita di Volponi, che Olivetti dice guarda, mi serve un intellettuale meridionale o comunque centro meridionale che mi faccia delle inchieste su come il boom economico sta cambiando il volto della campagna nel mezzogiorno. E lui scrive queste inchieste proprio commissionato da Olivetti nella zona degli Abruzzi e in Lucania. E da lì nasce poi il rapporto con Olivetti, che è un rapporto che poi lo porterà a lavorare a Ivrea e poi Paolo Volponi avrà una vita insomma di un uomo diciamo uno scrittore un uomo di cultura che comunque ha lavorato nella grande industria italiana è stato anche ha lavorato nell'ufficio delle relazioni pubbliche della Fiat fino agli anni 70 quando poi invece la sua adessione al partito comunista lo ha portato a rompere con con la Fiat e poi a lasciare a lasciare quel mondo. Quindi lui era veramente una persona che ha attraversato proprio sulla sua carne il boom e si inizia a parlare in Italia si inizia a porre un po' il discorso che l'Italia forse non è più un paese agricolo non è più un paese dove i paesaggi il paese del gran tour ma l'Italia è anche un paese inizia ad essere anche un paese industriale e questo inizia ad essere un paese industriale gli scrittori lo stanno raccontando provano a raccontarlo e si pone questo interrogativo Elio Vittorini sul Menabò e fanno questo numero letteratura e industria alla fine degli anni 50 dicendo ma gli scrittori si occupano di come è cambiato il nostro paesaggio e in queste in queste pagine nel Menabò appaiono dei nomi che poi insomma in qualche modo sono legati anche alla anche il percorso che c'è in questi giorni con le conferenze che riguardano Bianciardi Mastronardi appunto Volponi appunto c'erano Bianciardi che poi sarà famoso la sua vita agra c'è il maestro di Vigevano di Mastronardi che poi sarà un libro anche questo che racconta ed è rimasto il fondamentale per capire quello che stava succedendo in questo paese e poi arriva nel 1962 dal niente un romanzo il romanzo di Paolo Volponi lui già lavorava a Ivria lui già era proprio dentro il rovello del boom economico del rovello della rivoluzione industriale post bellica italiana e si cercava c'era un dibattito su come poter raccontare quello che stava accadendo e la chiave probabilmente era quella di scrivere un romanzo con una prima persona un personaggio che probabilmente aveva la stessa età del un io narrante molto vicino anagraficamente all'autore e Paolo Volponi pensa che la persona giusta sia Albino Saluggia Albino Saluggia è probabilmente il protagonista di Memoriale ed è uno di quei nomi chiunque abbia studiato un po' letteratura italiana anche all'università o a scuola ad un certo punto arriva Albino Saluggia Albino Saluggia ce lo ricordiamo tutti poi magari non ti ricordi in che romanzo è finito da dove è uscito però pensi che magari Albino Saluggia è un autore Albino Saluggia è un nome che resta e i romanzi cominciano dai nomi i nomi nei romanzi sono fondamentali e uno scrittore non mette mai un nome a caso in un libro è un lavoro molto delicato Memoriale passa anche per il nome del protagonista che sembra un nome anche comico sembra un nome da compendia dell'arte ma Albino Saluggia anche mette assieme un po' le caratteristiche del tempo che si vive e le caratteristiche del personaggio Saluggia per esempio è un paese del Vercellese e il nome di Saluggia di questo paese del Vercellese ha varie c'è un dibattito se questo nome venga da una popolazione che ci abitava prima con i Salluvi oppure per esempio questa è una cosa molto affascinante che deriva dalla presenza di tanti salici piangenti nel territorio di Saluggia e Albino è un salice piangente cioè se dovessimo pensare un albero come dire un albero che si porta solo almeno esteticamente dei mali uno pensa al salice piangente cioè che per l'eccellenza un lamento il memoriale che poi fa Albino Saluggia quindi c'è questa bellissima connessione che secondo me rappresenta ancora una volta l'idea che un nome nel romanzo non è mai a caso e Albino è ovviamente anche lì è un nome molto legato al territorio Albino di Vercelli è un santo che si venera il primo marzo è un nome era un nome frequente nei dintorni del lago di Candia ed era soprattutto un nome viene dal latino albinus Bianchiccio e il Bianchiccio ci fa pensare al malaticcio ci fa pensare a qualcuno che è un po' malato che si porta magari male tubercolotico come protagonista di di Memoriale e Albino è perfetto è proprio il nome è il vestito con cui lui si presenta a casa del lettore Albino Saluggia tu già nel nome hai un piccolo trailer vogliamo dire un piccolo trailer di quello che sarà saranno le sofferenze e un pochino le speranze di questo protagonista ma anche gli altri nomi sono molto interessanti gli altri nomi di di Memoriale sono dei nomi che sono molto legati un po' anche alle caratteristiche di questi personaggi c'è Grosset c'è Pinna Gualatrone il mago Fioravanti c'è il dottor Tortora che si chiama Tortora e su questo suo su questa polisemia del suo cognome ci sarà una poesia dove lui richiama gli uccelli continuamente che è il dottore che in tutti i modi cerca di farlo curare e di farlo ricoverare all'interno all'interno dell'esternatorio ma è importante ovviamente anche il nome e il titolo perché il romanzo si chiama Memoriale io prima ho fatto un piccolo spoiler lui era laureato in giurisprudenza aveva il mondo giuridico ce l'aveva dentro probabilmente aveva come tutti gli scrittori che un po' sono stati costretti oppure forse si sono anche in maniera masochistica costretti a studiare una materia lontana dalle loro passioni in realtà poi sfruttano e usano il metodo appreso nelle materie giuridiche nella loro scrittura e Volponi era uno di questi Memoriale è uno scritto col quale si invoca molto spesso una grazia oppure si chiede un beneficio oppure in un processo uno scrive appunto un Memoriale di difesa esponendovi ovviamente sia elementi tutti gli elementi dal proprio punto di vista con il proprio sguardo che possono essere a suo favore per richiedere questo beneficio sia all'interno di un possibile processo ma sia anche se questo Memoriale debba portarlo appunto a migliorare le proprie condizioni e questa scelta di questo titolo in qualche modo serviva un po' anche a far capire che tipo di peso c'era nel racconto di Albino Salugio cioè che era un peso quasi disperato cioè è proprio un Memoriale cioè è una persona che è messa le corde se tu scrivi un Memoriale perché sei stato messo le corde perché stai vivendo sei di fronte a un bivio e non puoi non decidere dinanzi a quel bivio il romanzo non dirà proprio due righe sul romanzo è è la vicenda di una persona che viene da da un mondo contadino viene da un'esperienza di guerra scenderemo adesso che leggerò l'incipit in questa sua in questa sua esperienza in questa sua origine e vive tutta la vita per realizzarsi lui pensa che realizzarsi lo puoi fare solo in fabbrica perché tutti vanno in fabbrica in quel momento la fabbrica viene vista come un orizzonte di benessere non solo economico ma anche un benessere psicologico fatto un romanzo molto psicologico e c'è stata molta discussione all'epoca su Memoriale e ancora oggi spesso se ne parla su probabilmente Albino Salugia che cosa soffre quando lui entra in fabbrica e quello che poi succede lui parte da delle aspettative ma queste aspettative sono già in qualche modo corrotte dal suo sguardo un po' paranoico su uno sguardo paranoico che per esempio durante la parabola narrativa lo porta a considerare qualunque evento che accade nella fabbrica una congiura contro di lui cioè lui tutto quello che succede è perché loro non lo vogliono far lavorare in fabbrica qualunque cosa lui proprio è la dietrologia fatta a persona pensa che tutti in realtà lo vogliano escludere dalla fabbrica in realtà i medici che lui fa una visita medica e gli riscontrano la tubercolosi gli riscontrano una malattia e dice tu devi andare in senatorio non puoi lavorare qui anzi ti diamo anche la possibilità di ritornare quando guarisci ma lui no lui pensa no io mi state prendendo in giro non è vero io devo lavorare in fabbrica io devo stare qui io sono come gli altri come gli altri che vanno nei caffè dopo la fabbrica che sono felici che tornano a casa nelle loro famiglie io devo tornare a casa da mia madre con la quale lui ha un rapporto stranissimo inquietante e poi ovviamente come tutte come una persona che sia che è destabilizzata da questo da questa dietrologia che lui vive e diventa anche una persona molto fragile che viene un po' manipolata per esempio più avanti nel corso della storia da un mago un medico mago che ha inventato un siero che fa guarire dalla tubercolosi dei tumori e lui per esempio si affida a questo mago a un certo punto della propria vita ed è anche un po' un racconto veramente molto che dei dei tempi nostri perché racconta un certo tipo di fragilità alla trama insomma poi succede un po' di tutto nel senso che lui entra ed esce dalla fabbrica cerca di fare carriera dentro poi riuscire a tornare poi ci sarà questo questo finale a metà strada fra la visione e il dilirio ma è poco importante la trama invece è importante secondo me sentire la voce di di Paolo Volponi e la voce di Albino Saluggia allora il romanzo comincia con con un'avvertenza allora le avvertenze sono delle scritte molto spesso che l'editore o l'autore mette nel libro per questioni legali per pararsi da eventuali problemi però ci sono avvertenze e avvertenze l'avvertenza di Memoriale è parte del libro anche se è un carattere minore però è veramente quello che Paolo Volponi in un'intervista a Giovanni Raboni negli anni 80 Raboni disse vabbè ma tu hai scritto dei romanzi sul mondo dell'industria hai sordito con Memoriale hai raccontato in qualche modo come l'umanità delle persone che sono che hanno vissuto quella rivoluzione sia stata segnata per sempre la crudele e cattiva industria e lui dice fermati Raboni no non è così io non sono uno scrittore di denuncia io voglio solo dare uno sguardo sono uno scrittore di sguardi e infatti lui lo scrive nell'avvertenza proprio per evitare che lui venga considerata che Memoriale venga considerato un reportage i personaggi e i fatti di questo romanzo sono immaginari e fin qua è classica avvertenza virgola i luoghi e i paesi esistono qui già c'è la prima discrasia punto la città industriale fra virgolette la città industriale cioè il luogo dove c'è la fabbrica di Albino Saluggia non ha identità anche perché l'autore non vuole che con la pretesa di riconoscere una città o una fabbrica si giunga ad attribuire soltanto a questa le cose narrate quindi non è importante dov'è questo posto sono importanti le cose che racconto e Paolo Volponi lo scrive proprio all'inizio perché capisce quale può essere il punto debole di questo libro che dall'altro attenzione esce nel 62 ma esce in modo non banale con una prefazione di Pasolini esordio con prefazione di Pasolini tra l'altro la grande amicizia tra Volponi e Pasolini perché Pasolini aveva molta molta stima Paolo Volponi perché lo considerava un poeta prestato alla prosa diceva ma tu sei più soprattutto un poeta soprattutto lo stile infatti poi chiuderò il mio intervento proprio su questa fisionomia della scrittura di Paolo Volponi cioè che effettivamente lui aveva un ritmo diverso nella sua prosa non era il ritmo di un narratore era proprio un ritmo di un ibrido e l'avvertenza quindi è importante perché ci dà come dire lui ci guida ci dà una luce sulla strada che inizieremo a percorrere a questo punto inizia il romanzo allora per me da lettore quando io comincio un romanzo è innegabile che l'incipit è veramente l'abito con cui uno sconosciuto si presenta a casa tua non sappiamo chi è questo sconosciuto quindi potrà avere un abito lercio strucito però sarà una persona meravigliosa potrà avere un abito perfetto ma sarà una persona orribile l'incipit è l'abito perché è la prima cosa che vediamo sono le prime righe la scelta di Volponi è come se è una scelta in cui lui mette nelle prime righe del libro tutto quello che sarà il romanzo ai limiti del didascalico però attenzione ovviamente questo non completamente enunciato e lo andiamo a scoprire in queste prime righe dove veniamo a contatto con i temi del libro e l'identità del personaggio inizia il memoriale di Albino Saluggia ovviamente parla lui sta scrivendo lui i miei mali sono cominciati tutti alcuni mesi dopo il mio ritorno dalla prigionia in Germania quasi che la terra materna dopo tanto e così crudele distacco mi rigettasse io sono nato il 12 marzo 1919 ad Avignone in Francia ma sono italiano e di genitori italiani padre piemontese e madre veneta nata nella campagna fra Padova e Treviso in luoghi assai belli ella mi ha sempre detto che io non conosco oggi che scrivo ho già compiuto 36 anni e i miei mali sono arrivati a un punto tale che non posso fare a meno di denunciarli scrivo stando a casa mia a Candia nel Canavese in provincia di Torino questa casa è fuori del paese verso il piccolo lago di Candia ma un poco spostata a sinistra tra paese e lago verso la collina è una casa di campagna con un poco di orto la sua loggia di mattoni rossi il fienile e la stalla abbandonati dove vivono in disordine alcune galline due galli una famiglia di conigli quasi selvatici io non curo la terra né gli animali da cortile perché sono un operaio di una fabbrica in città di una fabbrica grande più della stessa città già l'orgoglio con quale lui rivendica il suo essere operaio allora il libro inizia lui mette qui tutto nel libro tutto quello che andrà ad approfondire i miei mali leggendo Memoriale uno pensa sempre alla pazzia su quale poi noi andremo e in realtà lui ha veramente soffre di tantissimi mali in questo libro c'è sicuramente il suo stato di disunione con la realtà c'è sicuramente la tisi che lo sta mangiando c'è sicuramente un altro tipo di disagio familiare ci sono tanti mali ma il primo male nasce lo dice proprio a secondo rigo dopo il mio ritorno dalla prigionia in Germania quasi che la terra materna dopo tanto e così crudele di stacco mi rigettasse questo pezzo lui è uno racconta un dramma che vive la sua generazione la generazione di quegli italiani che non aderirono alla repubblica sociale dopo l'8 settembre del 1943 e non aderendo alla repubblica sociale dopo l'armistizio furono diventarono alcuni riuscirono a scappare riuscirono magari ad unirsi alle brigate partigiane altri morirono circa 25.000 italiani che lottarono con i nazisti in quel momento e quasi 900.000 italiani furono deportati nei lager tedeschi dove Albino Saluggia finisce quando però gli italiani deportati tornano in Italia dopo la seconda guerra mondiale decimati dai lager non tornano da reduci da deportati ma tornano come quelli che non hanno partecipato alla resistenza tornano come quelli che non si sono sacrificati tornano a quelli che erano vittime della propaganda che facevano per esempio i giornali fascisti dicevano gli italiani che stanno in Germania fanno la pacchia che stanno nei lager e stanno facendo la pacchia gli italiani i vostri mariti i vostri genitori non tornano in Italia a combattere con noi perché vivono bene in Germania questa ferita Albino Saluggia la racconta nelle prime due righe e la sentiremo per tutto il libro ed è molto importante questo rapporto con da reduce della guerra perché più avanti lui scriverà che la fabbrica assomiglia un po' alla guerra perché un capo un giorno gli dice tu hai fatto la guerra sai come funziona in fabbrica obbedienza e disciplina queste due parole ricordatele e per lui l'obbedienza e la disciplina significa il lager significa l'essere stato deportato nei campi di concentramento poi lui dice che è nato il 19 ed è importante anche il posto dove è nato e qui lo scrittore perché perché volponi oggi 60 anni dopo leggiamo perché sono questi dettagli che ti fanno capire come arrivare già al cuore della storia lui lo fa nascere ad Avignone e non è un caso io avendolo fatto nascere ad Avignone anche se non c'è una ragione speciale pensi subito aspetta dai papi ad Avignone sicuramente c'è qualche anche se non è così la religione c'entra nella figura nell'identità di questo personaggio e c'entra molto perché lui ha un imprinting cattolico fortissimo è un cattolico anche se non praticante però ce l'ha quell'imprinting sono italiano di genitori italiani ma questi genitori di dove sono è qui altra zampata un genitore il padre piemontese la madre veneta e qui le due anime che poi lui proprio alla fine le dichiara il veneto aveva una grande vocazione agricola ancora in quel momento e invece il piemonte era il simbolo dell'industrializzazione del paese quindi lui nella sua famiglia l'ascendenza già è chiara io sono proprio un italiano che in questo momento vive questo dualismo questa contraddizione noi stiamo cambiando diciamo mamma veneta e padre piemontese e poi lui descrive a 36 anni poi descrive anche la descrizione della casa precisa c'è l'orto è un po' fuori città però in qualche modo è vicino alla città quindi noi lui ha creato perfettamente il dualismo città e campagna nelle prime quattro righe di memoriale abbiamo già in mente che cos'è questo personaggio poi mi soffermo sempre sull'inizio c'è un colore che viene che domina lo leggo non ve lo dico ma ve ne accorgerete mentre lo leggo nella prima pagina la prima descrizione proprio del primo paesaggio è notturno dormi bene e proprio come volevo mi svegliai presto ma giorno fatto la notte era trascorsa come nei campi di concentramento e come in Francia nella mia infanzia in un grande silenzio e in un silenzio che però era soltanto per me e che finiva appena fuori dal mio sonno come lo avvertivo nel mormorio dei compagni e dei genitori nella strada un mormorio bianco perché anche da bambino tenevo le imposte aperte non tanto per paura quanto per non isolarmi del tutto e avere argini al sonno quasi uno spazio dove rigirarmi e tentare qualcosa con una mano non avrei mai creduto vedendola che quella fosse la mattina dei miei dolori la prima mattina del mio travaglio non era caduta molta neve ma mi bastava anche se non mi commuoveva come avevo pensato la neve stava sui boschetti e quasi entrava nell'acqua del lago che era ferma ma toccava appena la mia casa e la piccola salita allora qui lo fanno notare Pasolini inizia qui è il poeta la neve il romanzo inizia col bianco la pagina bianca il memoriale inizia su una pagina bianca e poi poco alla volta arriva l'inchiostro il nero della scrittura e l'immagine con quale la mattina in cui lui si sveglia con i primi travagli è un giorno in cui ha nevicato però è una neve non è una neve fortissima non è una neve che ha cambiato il paesaggio ma è quel bianco che ci dà la percezione del freddo che ci dà la percezione anche di quello che saranno i primi i primi tempi della storia d'Albino Salugia del suo rapporto con la fabbrica poi e questa è un po' la classe secondo me insomma della dello scrittore poeta cioè questo fa percepire senza mai dichiararlo senza mai spiegarlo ma soltanto raccontandolo un contesto nel quale avviene la nel quale avvengono le vicende di Albino Salugia Pasolini diceva ma questo libro qui è un libro di un poeta e soprattutto ha mostrato che la letteratura può raccontare quello di cui tutti oggi quello che tutti oggi temono nel racconto del mondo industriale cioè che l'individuo in qualche modo subisce alienazione che cos'è l'alienazione? subisce questo stato di disunione che lo allontana che lo divide in due divide in due la sua identità cioè una parte della propria vita viene completamente risucchiata e si allontana dalla propria dal proprio essere dal proprio chi sono io sono soltanto un pezzettino un rovello di quella fabbrica meglio in qualche modo essere soltanto questo perché soltanto se sono questo riesco a riconoscermi c'è un pezzo bellissimo la pagina 13 io sto leggendo l'ultima edizione che adesso c'è di Memoriale che è pubblicata proprio da Inaudi e però purtroppo senza la privazione di Pasolini che però si può recuperare nei nei meridiani salto un po' il discorso della guerra del lavoro vado subito un po' alla fabbrica lui è la prima volta che arriva in fabbrica prima di parlare dell'alienazione lui ha questa fascinazione vede per esempio lui prima di iniziare a lavorare lui va a vedere gli operai che escono dalla fabbrica vede che sono felici vede che vanno a caffè che hanno passato queste giornate al lavoro ha una visione un po' anche infantile diciamo loro sì che sono pieni sì che si sono realizzati la madre gli dice inizia a lavorare mi raccomando non ti maritare subito questo già fa capire il rapporto che c'è fa la madre e il figlio e allora lui entra in questa fabbrica la prima volta e e la descrive così la fabbrica lo descrive sempre grande grandissima è bassa ronzava indifferentemente ferma anche come il lago di Candia in certe sere in cui è il solo in mezzo a tutto il paesaggio ad avere luce nemmeno in Germania e torna la guerra torna la ferita nemmeno in Germania avevo visto una fabbrica così grande così tutta grande subito sulla strada senza recinti e cancellate dove la gente potesse lavorare avanti e indietro certo dopo un momento il lavoro sembrava tutto uguale e la fabbrica era tutto uguale e da qualsiasi parte mandava lo stesso rumore ma più che un rumore era un ansimare forte quindi questo anche antropomorfizzare la fabbrica inizia a farci capire il viaggio che sta cominciando a fare Albino Saluggia certo la fabbrica era grande pulita misteriosa che uno non poteva nemmeno pensare se era bella o brutta ed anche a tanti anni di distanza dopo tanti anni durante i quali vi ho lavorato non so dire se la fabbrica sia bella o brutta iniziamo a entrare nel tema dell'alienazione e le prime pagine sono tutto questo racconto duale città campagna fabbrica campagna l'idea che lavorare in fabbrica è come una guerra passano le prime esperienze anche le prime visite le prime visite che lo iniziano a far capire che lui che lui è malato però allo stesso tempo il soggetto sublima anche quel suo essere il rovello di un meccanismo e vede insomma che quella fabbrica forse c'è l'orizzonte perduto che lui sognava quando era detenuto in un campo di concentramento tutto sommato nella sua solitudine compresa la mia solitudine o meglio la mia differenza dagli altri i primi giorni di lavoro in fabbrica non furono brutti giorni anzi molte cose mi piacevano e mi confortavano così la mensa gli spogliatori le docce i grandi corridoi le luci al neon dentro e fuori il veder passare altri e silenziosi tanti ingegneri e dirigenti che mi facevano sentire al sicuro in una fabbrica ben governata e pensavo con piacere anche se con il timore di non esserne degno di far parte di un'industria così forte e bella e che la sua forza e la sua bellezza fossero in parte mie e pronte ad aiutarmi così come la fabbrica mi scaldava e mi dava luce la fabbrica lo scalda e gli dà luce siamo proprio in un delirio adesso di è una scena fortissima perché lui è in totale delirio mistico di fronte alla fabbrica ma due pagine dopo questa sua dichiarazione d'amore alla fabbrica ecco perché vi dico l'alienazione è uno stato di disunione una persona proprio scissa lui scrive passati due mesi il lavoro della fabbrica mi accorsi però di non aver guadagnato o perduto niente voglio dire mi accorsi di essere la stessa persona di 50 giorni prima la stessa da tanto tempo e che niente era cambiato dentro o fuori di me nelle cose importanti della mia vita che cioè la mia vita era rimasta uguale senza nemmeno mostrare i segni di una prossima trasformazione e lui qui ha una specie di illuminazione cioè lui scopre che è tutto fermo che in realtà in quei due mesi che lui ha lavorato in fabbrica non è successo niente era tutto uguale uguale a prima che poi la sensazione che magari noi viviamo non necessariamente quando abbiamo contatto con il lavoro ma anche con la routine delle nostre vite e la parola alienazione io ho trovato due definizioni della parola alienazione interessanti perché noi spesso la intendiamo appunto come questo stato di disunione mi affascina molto quella che è nella definizione della psicanalisi post-freudiana della parola alienazione cioè che poi viene dalla teoria della scuola sociologica di Francoforte sono sostanzialmente l'uomo compirebbe nell'economia e nelle società dei consumi atti che fanno sì che lui preferisca l'avere all'essere più che l'essere è importante avere poi l'inizio insomma anche del delivio consumistico mentre in un'accezione più corrente e meno specialistica alienazione questo invece l'orbata da questa definizione quella che si trova nei dizionari è un stato di estraneazione e di smarrimento dell'uomo nell'odierna società e civiltà tecnologica nell'organizzazione dei ritmi della vita dove si sente ridotto oggetto è molto interessante perché il sentirsi ridotto oggetto è proprio quello a cui cerca di scappare a un certo punto albinosa luggia ma il sentirsi ridotti oggetti sentirsi ridotti a una realtà lontana cioè sentirsi depersonalizzati non lo vivi soltanto facendo un lavoro ripetitivo come quello che fa albinosa luggia ma noi lo possiamo anche fare nel rapporto con uno strumento infatti si dice sempre che l'alienazione nasce da una deformazione delle connessioni con degli strumenti produttivi uno psicologo più diciamo con molta più credibilità di me vi direbbe per esempio il sistema produttivo per eccellenza oggi può essere uno smartphone che ti aliena da una in qualche modo una realtà in questo caso stiamo parlando però di un lavoro all'interno di una fabbrica all'interno di un di un settore dove la ripetizione dello stesso oggetto poi dello stesso gesto porta poi alla prima alla presa di coscienza della vita che stai facendo come in questo caso questo pezzo che ho letto dove lui dice oh ma sono due mesi che lavoro in fabbrica non è cambiato nulla nella mia vita niente né dentro di me né fuori di me e poi dalla presa di coscienza inizia a scappare a scappare come? e lui a Binosa Luce sceglierà la strada della follia anche se lui già è in qualche modo diverso dagli altri è in qualche modo si è già allontanato si è già un po' distaccato e lui inizia anche a guardare però anche la natura in maniera diversa lui per esempio c'è una pagina molto bella c'è una piccola un piccolo svolazzo su quello che sto raccontando quando lui subisce l'ennesimo ricovero in sanatorio e lui dalla finestra guarda gli uccelli e dice io guardavo i passeri e pensavo che era incredibile che gli uccelli fossero così vicino alla cattiveria umana a quella infermeria dove lui è stato ricoverato a quegli strumenti che non che quegli uccelli non fossero spaventati dalle parole e che non fuggissero lontano da quella fabbrica di ferro a questo punto inizia un po' la sua la sua mania una mania che poi lo porterà insomma a litigare con i medici della sua fabbrica che lo vogliono far ricoverare in sanatorio lo vogliono addirittura gli propongono delle residenze in montagna dicono ma vai in montagna tanto torni e lui dice no io non posso lasciare i miei posti di lavoro io devo lavorare qui intanto ricorda ci sono l'attaccamento al lavoro di Albino Salugia ricorda una scena anche di un capitolo di uno dei fantozzi scritti da Paolo Villaggio dove ci sono pensionati che vengono dismessi dalla fabbrica che poi pagano per tornare a lavorare in fabbrica e in memoriale di Volponi questa cosa c'è in Albino Salugia questa nevrosi di fantozzi lui l'aveva già raccontata questi pensionati che lavorano clandestinamente nella fabbrica e che pagano cioè danno la loro pensione Salugia è sicuramente una persona che ha un suo non ha un equilibrio si dice sempre che quando si parla di pazzia nella letteratura italiana si fa riferimento a memoriale comunque nell'elenco dei romanzi c'è sempre memoriale e la pazzia è un espediente molto rischioso nella letteratura e ovviamente insomma abbiamo il caso più famoso di tutto forse la letteratura che è appunto la follia di Amleto perché la pazzia oppure la pazzia del memoria di un pazzo di Gogol la pazzia permette però di dire la verità a un personaggio di avvicinarsi alla verità è un espediente rischioso perché poi ovviamente può diventare se non lo sai maneggiare può diventare appunto un romanzo di denuncia di cui il nostro Volponi si teneva bene alla larga oppure un espediente da poco invece lui lo sa maneggiare tantissimo il disturbo di Albino Salugia che disturbo è? c'è un dibattito che disturbo Albino Salugia io ho fatto una ricerca su questo è un disturbo paranoide un disturbo di personalità prevalentemente attribuibile ad un uso massiccio del meccanismo della proiezione proiezione è un meccanismo di difesa tutto ciò che dentro di me è cattivo io lo proietto all'esterno tutto ciò che non è risolto dentro di me lo proietto su dei conflitti esterni ecco perché lui continuamente sente questa congiura contro di lui tutti ce l'hanno con lui tranne chi lo tranne chi lo asseconda e lo asseconda chi? chi lo sfrutta? un mago un medico mago che è quello di cui parlavo prima che si chiama Fioravanti che è già nel nome nella scelta del nome Fioravanti è uno che dice io guardo il futuro io so che l'uomo moriremo tutti di tumore e io però ho inventato un siero con questo siero però sono ostacolato sono ostacolato dal potere però sono stato investito dalla vergine di Europa perché la moglie ha delle visioni la moglie di questo mago medico ha delle visioni e la vergine ha detto tuo marito fa bene cioè quel siero funziona e quindi Albino si affida a questo proprio perché la fragilità spesso può essere manipolata facilmente manipolata più si è fragili e più si è vittima di persone calcolatrici e manipolatrici che non hanno interesse per te ma hanno interesse appunto a fare a portare avanti appunto le loro idee in questo caso le idee truffaldine quindi il racconto di questo tipo di fragilità è molto è molto complesso e però Volponi lo tiene sempre in piedi e ci credi sempre io ho amato molto Memoriale come l'ho amato forse anche Pasolini e chi ha amato questo libro proprio perché è un romanzo poetico attenzione il fatto che fosse un romanzo poetico quando il romanzo uscì nel 62 creò anche un dibattito e fu anche stroncato Memoriale per esempio Pietro Citati che ci ha azzeccato quasi sempre nella vita però su Memoriale fece una stroncatura sul giorno dicendo ma questo libro la fisionomia fra la prose e la poesia in realtà non si perde a un certo punto non tiene tutto e invece Pasolini diceva ma guarda questo romanzo è un miracolo perché ti racconta quello che sta succedendo in questo momento un tema a metà strada fra quella che può essere la sociologia la psicologia la filosofia dell'alienazione dell'uomo di un figlio della nostra del nostro dopoguerra che ha fatto e ha partito la guerra e che ha patito e che sul suo corpo e nel suo albero genealogico ha disegnato c'è proprio il disegno di che cos'è l'Italia cioè città e campagna nuova rivoluzione industriale e vocazione contadina agricola di questo paese ce l'ha nel corpo quest'uomo come puoi non raccontarlo se non anche con la libertà ma anche il ritmo della poesia e a questo punto io ve ne leggo un pezzo e Volponi nel corso del libro fa una cosa che veramente oggi sarebbe veramente rischiosissima l'ha fatta forse recentemente nella narrativa contemporanea Vilas scrittore spagnolo cioè lui a un certo punto il libro alterna anche delle pagine in poesia cioè in memoriale ci sono dei momenti in cui il racconto è attraversato dalla lingua poetica voglio chiudere con questo viaggio nella poesia di Paolo Volponi e farvi sentire un po' anche il suo il suo rapporto con con il ritmo perché ho preso un piccolo micro tributo alla poesia di Volponi lui ha pubblicato tantissima poesia lui è riconosciuto come come un poeta risordito come poeta e ha pubblicato negli anni 90 il suo ultimo il suo ultimo libro di poesia il suo ultimo libro in poesia è una poesia che dà il ritmo al suo pensiero alle parole è che in qualche modo avvicinano un po' all'anima non solo dei suoi personaggi ma proprio all'anima delle cose siamo verso la fine del libro e è memoriale dichiaratamente Balbinosa Lugia si inizia ad affidare alla poesia per avvicinarsi in qualche modo al cielo cioè la poesia ti avvicina avendo un ritmo diverso dalla prosa ti inizia ad avvicinare anche a un modo di pensare diverso ecco io andavo dietro alle parole scrive il loro suono contava più di ogni altra cosa più del loro senso ed io finivo per ordinarle o per trovarle o per inventarle secondo il suono senza più l'ordine del significato o del pensiero suono più del significato e più del pensiero ma così trovavo un altro ordine pieno di emozioni che parlava meglio del mio linguaggio non andavo nemmeno più dal prete perché anche la mia anima si apriva ormai sopra di me seguivo i miei discorsi immobile con la mente anche se gustavo le parole tra le labbra e i denti pronunciandole nelle ripetizioni e in tutte le rime come dolci catene inventavo e cantavo le litanie dei miei dolori e della mia vittoria certi giorni mi veniva in mente al posto delle parole un motivo musicale o un ritornello e allora lo seguivo per tante ore ondeggiante come un aquilone e il suo filo si svolgeva nella mia mente e trascinava in volo i miei pensieri che si staccavano senza farmi male e trascinava in volo i miei pensieri che si staccavano senza farmi male io ogni volta che io gioco questo pezzo mi vengono i brividi partendo dalla mia testa continuando nell'aria la circolazione del sangue leggero della mia testa senza strappare nulla dal mio cuore e dal centro di me a questo punto lui mostra come è cambiato il suo modo di pensare e ci sono dieci pagine di questa filastrocca per farvi capire chi aria tira io sono una goccia la prima o l'ultima di un'acquazione caduta dalla grondaglia quando nell'aria non si aspettava pioggia nemmeno quella goccia la mia goccia si è perduta nessuno l'ha goduta una tortora una tortora con la T maiuscola quindi riferimento al medico l'ha disprezzata e tra la polvere mischiata non c'è stata la dunata le altre gocce non sono venute la mia stessa madre è addolorata le speranze ha perdute eccetera eccetera racconta questo suo dolore in queste rime a volte baciate ed è come se fosse una ballata perché la ballata è fatta di settenari ed indegasillabi e sono settenari ed indegasillabi quasi tutti questa filastrocca si sente proprio il ritmo di Volponi e infine lui dichiara quello che ha detto Signora Adesso cioè io mi sto aggrappando alla poesia perché mi dà un ritmo diverso alla vita e quando non mi abbandonavo alle poesie quando cioè ritiravo la mia mente riprendendola interamente per me allora la ritrovavo acuta come una lama smaniosa di aprire un varco dentro di me di ritrovare i miei pensieri quei pensieri che si erano staccati prima adesso grazie alla poesia forse li ritrova facevo così degli esami precisi di tutta la mia storia e della mia situazione in quel sanatorio e in quei momenti ho ricostruito e scritto quasi tutto questo racconto pensando molto di più e con più ampiezza e profondità di quel che riuscivo a mettere sulla carta ho scritto anche tante lettere che non ho raccolto lettere e qui tutto l'elenco delle persone e qui ha scritto le lettere la poesia diceva a Mario Luzzi la notte lava la mente in questo caso la poesia lava la mente lo purifica lo salva la poesia apre i varchi di un'anima ferita e probabilmente a volte quando si legge un romanzo come quello di Volponi c'è anche questo volesse abbandonare un po' a un ritmo è un ritorno alle parole un ritmo però anche diverso per camminare nelle nostre zone buie le zone buie della nostra vita le zone buie dei nostri conflitti che non abbiamo sanato o che non abbiamo riunito e camminare però con l'infinito palpitante ritmo della poesia grazie grazie davvero perché non era come vedete non vi ho raccontato molto di Memoriale spero che sia venuta un po' di curiosità a chi non lo conoscesse o anche di rileggerlo io l'ho mi sono emozionato a rileggerlo avrei voluto parlare ancora ma secondo me era giusto chiudere con la sua poesia perché la poesia di Paolo Volponi merita di essere riscoperta grazie a tutti Grazie.